Allora, siamo qui con il presidente Torrice, il tuo Ligorna non potevi iniziare meglio al 2019? Sì, sicuramente abbiamo iniziato col piede giusto, partita difficile, giocata molto bene direi, ho tenuto sempre palla anche se eravamo in svantaggio, non abbiamo mai avuto problemi a gestire la partita, anzi forse il risultato raccolto è un po' stretto per quello che abbiamo fatto. Ligorna che comunque nonostante fosse in inferiorità di risultato ha sempre continuato a giocare dimostrando una gran voglia di vincere che poi è arrivata fino alla fine. Sì, 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 la voglia ormai, siamo arrivati a 30 punti, abbiamo detto facciamo queste 5-6 partite, poi vediamo dove siamo, e questo giocando sempre come oggi. Ok, grazie mille presidente. Grazie, tanti auguri.